Capitolo 19 Tredì dopo la partenza di mio marito incontrai per strada il mio amico. Ero col piccino. Lo vedemmo avanzarsi tra la folla, assorto, un po' curvo, e a un tratto, scorgendoci, trasformarsi per virtù di un sorriso splendente. Eravamo per lui una lieta apparizione. Prese per mano mio figlio, rivolgendogli qualcuna di quelle domande piene di grave tenerezza che fanno balzare di compiacimento il cuore dei fanciulli e che così pochi sanno trovare. Io rivedevo la scena di poche sere innanzi e un impeto di indignazione mi toglieva la forza di parlare. Bisognò che egli mi interrogasse, e allora non potei che accennare ad un'incipiente gelosia di mio marito, all'impossibilità di vedere lui d'ora innanzi in casa mia. Aveva intuita la cosa, ma al sentirla confermare ebbe un movimento di sdegno. Poi, quando gli dissi che avevo rinunziato ai propositi di indipendenza, che per non essere privata di mio figlio mi ero decisa a riprendere la vita meschina e falsa, ma volse con uno sguardo mesto e quasi fraterno, e non aggiunse parola, senza confessarmelo chiaramente. Restai un po' delusa. Mi pareva che un gesto di pietà, anche spressante, una rampogna mi avrebbero più sollevata. La sera, dopo cena, mentre il bambino giocava sul tappeto accanto alla stufa, ebbe una prostrazione paurosa. Ero seduta alla scrivania, mi trovai col capo tra le mani, il petto scosso dai singhiozzi violenti, il volto inondato di lacrime. Il piccino restò un momento stordito. Non ricordava, certo, d'avermi mai vista così, piangere forte, sola con lui. In vano mi si strinse alle ginocchia, mi accarezzò il volto, mi disse alle sue puerili frasi d'amore per far cessare il mio pianto. Infine afferrò la penna sulla scrivania, me la pose tra le dita inerti. Mamma, mamma, non piangere, scrivi, mamma, scrivi, io sto buono, non piangere. Ah, la piega, dolorosa di quelle labruzze fiorenti, la fissità precoce di quello sguardo umido. Egli partecipava veramente alla mia sofferenza con tutta la bravura della piccol'anima amorosa e io non potevo che accettare anche il suo sacrificio, io, sua madre, che avevo sognato per lui tutte le gioie, tutte le vittorie. Scrivere, la cara piccol'anima intuiva anche questo, la necessità per me di tuffarmi come non mai nel lavoro e nel sogno. Non era geloso mio figlio, non era prepotentemente egoista nel suo affetto, pensava alla mia salvezza, ai bisogni per lui oscuri del mio essere complesso, non pretendeva di poter riempire lui solo tutta la mia vita. Ma come afferrarmi a quella penna che mi porgevano i ditini rosei, che cosa scrivere? La mia desolazione si rifletteva anche sui miei sogni, che diventavano utopie inconsistenti e piene di contrasti ironici. Il mio pensiero corse naturalmente sull'amico. Egli non aveva saputo darmi un consiglio, che cosero io per lui. Egli considerava tutti, me compresa, come fa il passante che si china un momento sopra il bimbo e lo lascia spaventarsi e piangere per qualche piccolo malano che gli potrebbe facilmente rimuovere. Potrebbe? Il bimbo quasi lo crede. Io pure l'avevo quasi creduto. Per la prima volta mi domandavo se la vita che gli conduceva invece che di purificazione e di perfezionamento non fosse di raffreddamento, di inutile crudeltà. Qual verbo ne poteva scaturire? Credeva venuta l'ora di dispensarlo al mondo. Non mancava che una preparazione di rito. E mentre gli preparava la sua liturgia io naufragavo. La mia amica agonizzava. Avrei pure io potuto morire. Non c'era in tutto questo qualcosa di mostruoso? Mi coricai. Il sonno non veniva. Quale ora di lucida coscienza attraversavo? Da che serrandomi al petto il figliuolo avevo rinunciato ai miei progetti di libertà? Non mi ero ancora chiesta nettamente che cosa attendessi. Ed ecco le risposte si incrociavano ora contraddicendosi sgomentandomi. Io mi disprezzavo per la mia debolezza. Io mi sentivo bile. soffrivo senza scopo senza sollievo senza utilità né per me né per mio figlio e anelavo alla gioia come lui nella spontaneità dei suoi sei anni e presentivo tutte le torture che gli avrebbe provato quando si fosse saputo prezzo dell'ignominia materna. E ad un tratto una nuova domanda irruppe. Se lui ti avesse detto di resistere se ti avesse chiesto di lasciare tuo figlio se ti avesse proposto di seguirlo di servirlo di portare nella sua vita quell'armonia che vi manca lui viveva dunque quella creatura talmente in me? Era dunque altro che una guida un esempio un conforto? E un'altra interrogazione fulminea l'hai amato? Poi ancora avresti lasciato tutto per lui? Lo vedevo davanti a me come l'avevo visto il giorno contento di ritrovarmi tra la folla ignara era mai stato amato? Non aveva mai conosciuto il riposo su un seno di donna che lo comprendesse o lo difendesse dalle ombre paurose del mistero? Sorella egli mi chiamava ma una sorella non può nulla altre egli doveva averne incontrate e niente e una gli aveva potuto insegnare il cammino della felicità ed egli ostinato voleva dire agli uomini una parola di rinuncia assicurargli che quel cammino è fuor della terra lente le risposte si succedevano sì se egli mi avesse chiamata alcuni giorni prima quando io credevo in lui io l'avrei seguito sì per lui avrei forse potuto vivere senza mio figlio in poco tempo questo grande cambiamento si era prodotto in me alcuni mesi prima quando avevo temuto che mio figlio morisse nessuna figura era sorta davanti alla mia mente ad affermarmi che io avrei ancora potuto vivere per un altro essere eppure non era amore quello che sentivo per quell'uomo non poteva essere amore io non desideravo nulla per me da lui sentivo anzi che una dedizione da parte sua me l'avrebbe menomato dinanzi agli occhi non potevo sentirmi felice sotto il suo bacio ma inginocchiarmi davanti a lui adorare la sua anima misteriosa servirlo dagli il mio ingegno la mia penna la mia vita questo avrebbe potuto avvenire se gli avesse voluto il mio figlio non si sarebbe tenuto defraudato bruscamente in capo una settimana la mia ammalata peggiorò di nuovo il fidanzato questa volta non mi disse nulla mi aveva guardata come invocando lui da me una parola di conforto e io compresi la cara era perduta perduta il povero cuore si serve da un momento all'altro domani o tra qualche giorno arrestato di botto perché allora continuare quella lotta di ogni minuto tutti quei rimedi tutte quelle cure direte non soltanto a sollevare l'inferma ma a colpire il male ah gli è che è impossibile credere veramente alla scienza che preannunzia la morte in un corpo nel quale la vita vibra si crede piuttosto al miracolo a un intervento ignoto si spera sino alla fine e noi speravamo egli con la persona giovane ed austera gli occhi incavati e ardenti dietro gli occhiali io più attempata in apparenza della morente stanca e bianca sotto la ferrea volontà di resistere in piedi ai due lati del capezzale per ore e ore speravamo ella ci confondeva quasi in una sola persona come in un'atmosfera protettiva e fedele durante le crisi ci serrava le dita come frate naglie poveri occhi azzurri dolenti povero viso rosio tra i capelli color di spiga nelle tregue cercava strapparci il segreto della sua sorte per prepararvisi ma non credeva di morire non poteva crederci continuava ad intervalli a far progetti e progetti parlava di un paese lontano tutto bianco di neve quanto tempo da che non avea veduto la neve andrebbero insieme verso i fiordi presto alla prima estate e io spiavo l'avviso tremendo sul volto del giovane quando si rialzava dall'aver ascoltato sul povero petto bianco il battito simile a quello di uno stantuffo enorme il volto suo si irrigidiva per gelare lo spasimo per quanto tempo non so più mi parve interminabile dovette essere assai breve invece un mattino la donna mi portò in casa della malata una cartolina di mio marito quasi insultante verso di me indirizzata al bimbo tutte le sue lettere erano ora fredde e pungenti con allusioni amare sul profeta mi domandava più neppure dell'amica questa mi vide in pallidire e di tuo marito e con un ardito moto del capo quale le vedevo di frequente ai suoi bei giorni a qualunque costo non tornare laggiù la baciai con silenziosa tenerezza se ti prendessero il bimbo aggiunse quasi con un soffio e i suoi occhi erano intensi come per trasfondermi una volontà il dottore mi aveva consigliato di riposarmi qualche ora e poi di fare una passeggiata col bambino al sole per essere temprata a passare un'altra notte in piedi appena a casa afferrai tra le braccia mio figlio lo tenni a lungo non riposai non potevo uscii con lui presi la tramvia di San Pietro volevo vedere la mia vecchia amica tornata da poco nella piazza quasi deserta il colonnato con la sua corona di statue ondeggianti pareva fremere tutto nell'aria vivida e nel gran silenzio ci avviamo a piedi verso il borgo santo spirito costeggiamo il muro dell'ospedale dall'altro lato della strada fanciulli e donne in cenci interrompevano giochi e chiacchiere per guardarmi nella mia apparenza di forestiera e tendermi la mano cenci appesi lungo i muri tanfo nell'aria per la salita di San Tonofrio ancora cenci ancora bimbi ruzzolanti ancora finestre di ospizi graticolate un gruppo di educande con alcune monache discendeva in alto al sommo del gianicolo ci fermammo un po' affannati Garibaldi figura di leggenda campato nell'azzurro guardava tranquillo la cupola enorme alla sua sinistra lo sfavillio della massa compatta di case di torri di alberi che mi si stendeva sotto gli occhi era intenso quasi insostenibile in fondo i monti si staccavano turchini sui cieli e lungo i declivi le macchie candide dei castelli mandavano anch'esse barbagli tra i monti e Roma la campagna l'immensità Roma forse ogni giorno lì in cima al colle qualche anima sentiva fluire in sé le più possenti energie vedeva lucidamente segnate le opere da compiere nell'ammasso meraviglioso di pietre così diverse per età e tutte ugualmente scintillanti e significative ogni giorno forse qualche anima aveva la visione di un'aroma dalla quale nel tempo scomparirebbero ogni violenza e ogni laidezza nella quale le linee armoniose del suolo e del cielo non sarebbero più turbate da un incomposto agitarsi di uomini fra loro estranei incompresi ostili mio figlio parlava parlava felice d'avermi per sé e mi indicava gli alberi pieni di cinguetì e stendeva la manina verso certi punti dell'orizzonte come mi aveva vista fare tante volte diceva guarda guarda mamma che bella nuvola sopra la pineta e là là che cos'è quella terra la vecchia rivoluzionaria era in casa ma verano altri visitatori tra i quali la direttrice di mulier con la figliuola maggiore e un giovane archeologo a cui la fanciulla si era fidanzata da poco la bella coppia raggiava di gioia e di fiducia la sposa mi disse la romanziera avrebbe potuto aiutare il marito nelle pubblicazioni dei suoi lavori l'impresa le sarebbe facilitata oltre che per virtù d'amore per il soffio di poesia con cui egli animava le proprie indagini fra i ruderi e le tombe i due giovani ascoltavano sorridendo gli occhi azzurri dell'una si fissavano su quelli neri dell'altro mai mai io avevo visto così due vite offrirsi incrociarsi per un momento il loro calore mi avvolse soave poi pensai al giovane scienziato tocchino sulla sua moribonda e il bisogno di tornare presso di loro mi incalzò sul portone di casa mia trovai una donna che mi cercava da due ore signora era morta la vedova l'aveva vista piegare sul petto del giovane mentre questi le aveva dato un cucchiaio di medicina con la bocca semi aperta a metà di un grazie grazie non sapeva la povera donna la profonda bellezza di quella parola non rimpiansi di essermi allontanate d'averle lasciata morire in braccio dell'amato lassù e là era già composta sul letto non era già più lei qualche vicina qualche mia collega erano a corse ora si succedevano le visitatrici non potei restare nello studio fuggii nella stanzetta il professore mi raggiunse dimenticai la mia sofferenza e gli stesi la mano sì il suo dolore poteva espandersi dinanzi al mio noi soli l'avevamo amata e noi soli la vegliamo per due notti parlando di lei di quello che era stata il bel viso roso era diventato d'avorio tra i capelli d'oro stinto si trasformava di ora in ora diveniva più rigido più ombrato finito finito pensavo a lui che credeva conoscere il mistero perché in quell'ora non me lo svelava perché soprattutto sapendo che la mia amica era condannata non era venuto a portare la parola di luce ah come di fronte alla fine cade ogni speranza di sfidare e vincere l'ignoto come si sente che l'umanità è impropria all'impresa destinata a passare sulla terra senza spiegarsi la ragione del suo passaggio ma contemporaneamente la nostra intima sostanza attinge la massima coscienza del suo valore la vita che si sofferma a guardare la morte comprende la nobiltà eroica del proprio ostinarsi ad ascendere e a perpetuarsi nel buio e la creatura dell'oggi ascolta un appello confuso forse la creatura del remoto domani che la chiama così che la conforta a proseguire la creatura nella quale raggerà tutto ciò che oggi è oscuro e con la quale si inizierà una nuova epoca l'epoca dello spirito liberato le ore passate accanto alla spoglia di chi amamo non ci fanno veggenti ma neppure ci prostrano né ci tolgono il senso dell'esistenza che in noi continua sembra in quel punto di ereditare coi doveri anche le qualità di chi ci ha lasciati ci si trova più ricchi o di energia o di idealità o di amore ci si sente solidali coi vivi oltre che coi morti il pensiero d'aver fatto tutto quello che era il mio potere per alleviare alla diletta le sofferenze estreme mi dava una specie di pacato conforto la breve e agitata vita di lei si era chiusa sotto la protezione dell'amore e la aveva portato con sé morendo la certezza di essere compresa e di rivivere nel rimpianto e io mi sorprendevo a dirmi che con ogni probabilità sarei stata meno fortunata laggiù consunta in pochi anni dall'arida esistenza chi mi avrebbe chiusi gli occhi dopo avermi sorriso accanto al mio letto nelle ore ultime non avrei avuto che mio figlio inconsapevole solo solo questo dissi o piuttosto lasciai indovinare il mattino dei funerali alla vecchia amica che era venuta a portare il suo saluto alla cara dormiente già tutta ricoperta di fiori eravamo accanto alla finestra un istante isolate dalla lunga sfilata delle conoscenti e ambedue volgevamo sguardi di serenità verso la forma indecisa a volta di bianco verso le immagini vivaci che la con vena inesauribile aveva sparse sulle pareti verso la campagna e il soratte lontano ah il buon riposo la dolce creatura l'aveva ottenuto e la voce della vecchia donna mi ripeteva sommessa e vibrante ma perché parti sai pure che la rassegnazione non è una virtù mormorai il nome di mio figlio e quella tacque passandomi una mano sulla fronte lieve più volte non tornare laggiù anche la dormiente me l'aveva detto prima di chiudere gli occhi ai funerali dietro il carro carico di fiori tra molte signore e i giornalisti avevo visto fuggevolmente il profeta qualche giorno dopo passando presso la sua abitazione fu assalita dall'improvviso desiderio di sorprenderlo là dove egli viveva la sua vita deserta di dargli là il mio addio poiché presto sarei partita salì in fretta all'oscura scala della vecchia umida casa imbruniva nella stanza era già accesa una candela si vedeva un letto in un angolo bassissimo quasi un giaciglio su una stufa di terra due mele erano posate cotte sulla braccia presso una finestra una tavola ingombra di carte e delle seggiole con qualche libro una severa effigie di vecchia sulla parete sua madre e in fondo alla stanza la scarna persona in attitudine un po' incerta che allungava un braccio per pregarmi di sedere che cosa dicemmo non riesco bene a ricordare egli si scusava del freddo dell'ambiente mi chiedeva del piccino della partenza e guardavo le labbra non aveva un tremito accennai al cassetto del tavolino stava lì la sua opera ebbe un gesto vago di assenso e non so come dovetti far travedere la mia incredulità più che le mie parole rotte come singhiozzi i miei occhi dicevano certo la disfatta del mio fervore e l'amarezza della mia anima nuovamente libera nel silenzio che seguì vidi per la prima e ultima volta quel viso sempre illuminato come da una visione interna oscurarsi alterarsi esprimere il più umano dei dolori la semplice profonda sofferenza di chi si sente abbandonato ma furono pochi istanti la calma ridiscese sulla sua fronte con il segno ostinato di una sovranità intangibile per due giorni le piccole stanze furono di nuovo ingombre di casse tante bare nelle quali seppellivo con gli oggetti equilibri i miei sogni i miei palpiti mio marito protestava per lettera di volermi con lui la povera morte era rinnegata egli aveva sospettato il suo amore per il giovane scienziato e l'orgoglio soffocava in lui ogni residuo di sentimento un attimo avevo tentato ancora di strappargli la mia libertà e non avevo che ribadito la catena grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti